Per cercare di sconfiggere o di tardare l'antibiotico d'esistenza abbiamo due versanti uno quello attuale cioè quello di utilizzare al meglio le attuali armi gli attuali antibiotici e l'altra quella di produrne di nuove sul primo versante la cosa molto importante è avere un approccio olistico cosetto One Health in questo il governo italiano è molto avanti sono già ottenuti buoni risultati con la sorveglianza e con una continua campagna di corretto uso per quanto riguarda il futuro ne parliamo poi nell'ambito del G7 sono tutta una misura per tutta una serie di misure per potere incentivare sempre in un approccio più universale possibile la ricerca di nuovi antibiotici e nuovi rimedi l'Italia secondo me presenterà il G7 un programma molto interessante come sappiamo ci sono due tipi di anche qui abbiamo due tipi di aspetti uno promuovere la ricerca di innovazione l'altra promuovere la possibilità che questo sia sostenibile perché il mercato degli antibiotici ha delle criticità governo italiano sta preparando due misure in questo senso naturalmente avranno molta più efficacia se saranno in raccordo con altre iniziative mondiali e quali sono le proposte di policy che intendete introdurre per affrontare il tema delle antimicrobico resistenza sostanzialmente unirsi ai grandi finanziamenti per la parte di incentivi cosiddetti push cioè quelli che favoriscono la ricerca di innovazione e poi trovare all'interno invece della spesa farmaceutica italiana le modalità per gli incentivi cosiddetti pull cioè quelli per cui antibiotici fondamentali che arrivassero in futuro possano essere utilizzati almeno pur garantendogli un mercato che altrimenti non ci sarebbe queste due misure saranno sicuramente presentate durante il g7 nel mese di ottobre grazie a tutti grazie a tutti